Non riesci a colpire il tuo avversario al viso perché è troppo alto o è veloce e ti schive i colpi? Semplice, tu colpisce lo sotto, allo stomaco o al fegato. Il problema però è quale colpo sotto bisogna tirare, il montante o il diretto? Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi voglio parlarvi di un classico problema che capita molte volte quando si fa sparring, ovvero quello di non riuscire a colpire il proprio avversario al viso per vari motivi, o perché è troppo alto e quindi non riesco a trovare la giusta distanza con le braccia, oppure perché il nostro avversario è veloce, ha degli ottimi riflessi e ci schiva i colpi. Come fare in questo caso? Semplicemente bisogna mirare al bersaglio grosso, ovvero allo stomaco o al fegato, tirando i colpi sotto. Il problema però è che quando si parla di colpo sotto si pensa sempre al classico montante al fegato, che sinceramente non è un colpo che bisogna tirarlo sempre nello sparring quando non si riesce a colpire l'avversario al viso. Il montante è un colpo che si tira solo ed esclusivamente alla corta distanza, quindi in una sessione di sparring se non riesci a trovare il bersaglio al viso del tuo avversario, dovrai colpirlo sotto con il diretto destro e quindi non con il montante, perché il montante lo potrai tirare una volta che hai trovato la distanza giusta, quindi hai accorciato la distanza dal tuo avversario, allora lì sì che potrai tirare il montante, ma se in una sessione di sparring fai un'azione in attacco, il primo colpo sotto che dovrai tirare è il diretto destro allo stomaco. Il diretto destro è un colpo molto efficace che ti assicuro se va a segno, quindi se colpisci il tuo avversario allo stomaco oppure anche all'altezza dello sterno, gli toglierai il fiato e quindi potrai anche fermarlo dal combattimento oppure dalla sessione di sparring. Puoi allenarti al diretto destro allo stomaco anche al sacco, quindi facendo una classica combinazione sinistro-sinistro e diretto destro, e una volta che vai a segno con il diretto destro, allora potrai colpire il sacco oppure il tuo avversario con una combinazione di colpi al viso. Il diretto destro è un colpo che devi allenarti al sacco per tirarlo sia in velocità, ma anche con grande costanza e determinazione. È un colpo molto efficace che ti sarà utile proprio in questo caso quando non riuscirai a trovare la distanza dal tuo avversario per colpirlo al viso. Quindi quando ti capita questo problema mentre fai lo sparring in palestra oppure con un tuo compagno in allenamento, quindi non riesci a colpirlo al viso o perché è troppo alto o perché è veloce e quindi ti schiva i colpi, tu ricordati di questo video e soprattutto di questo consiglio, ovvero di mirare al bersaglio grosso, quindi allo stomaco tirando il diretto destro. Spero ti sia piaciuto questo video, scrivimi nei commenti qui in basso se hai qualche domanda da farmi e ti aspetto nel prossimo video di Pillole di Box.